Oggi ci troviamo a Rüsselsheim, in un luogo storico per Stellantis, dove è nata la Opel. Siamo nell'universo Stellantis con tutti i brand, ma in questo momento in particolare ci troviamo in casa Fiat. Quindi, come potete vedere, alle mie spalle abbiamo quello che è la bandiera di Fiat, quindi il Fiat Ducato, in particolare questo è il nuovissimo iDucato, nella versione elettrica con una batteria da 110 kW, ha una percorrenza di oltre 420 km, ma girando intorno possiamo vedere che non abbiamo solo il grande, ma abbiamo il piccolino, il Doblò, anche in questo caso nella versione iDoblò, quindi il più compatto e agile della famiglia, e muovendoci più in qua, abbiamo il segmento medio che è lo scudo. Tutte e tre sono in versione elettrica, non ci siamo dimenticati della versione termica, quindi tutte e tre si stanno ancora nella versione termica, e in particolare, chicca di questo salone, abbiamo la versione di scudo a idrogeno, ma soprattutto abbiamo fatto vedere, e laggiù a distanza si può intravedere, la nuovissima versione del Ducato a idrogeno, con una percorrenza di oltre 500 km, quindi stiamo mostrando il presente, ma sicuramente anche il futuro di Stellantis e di Fiat.